con luca conta il mister dell'under 19 dell'ivrea allora mister vittoria da rice castello con sul campo della prima classificata direi meritata avete concretizzato bene l'occasione avuta diciamo che questa era una partita di livello questo è un buon campionato le prime 45 squadre oggi si viste una bella partita due squadre forti per motivi diversi loro molto forti fisicamente noi molto bravi a gestire la palla muovere e siamo stati bravi perché abbiamo fatto la partita fino alla fine quindi di conseguenza abbiamo messo un pochino con difficoltà certo abbiamo visto un buon inizio di ripresa prima una occasione sbagliata poi il gol di manto anna quindi siamo partiti abbiamo avuto una palla subito all'inizio dopo 20 secondi da poter fare gol e poi la partita non è andata avanti senza grosse occasioni da nessuna delle due parti molto giocata molto però e poi nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosina meglio rispetto a loro qualche palla in più messa dentro e concretizzata la prima poi non abbiamo mollato ed effettivamente è un risultato meritato direi certo poi ho visto anche un 2006 in campo quindi settore giovanile dell'ivrea sta dando i suoi frutti il lavoro quest'anno siamo partiti la società è partita con questa mentalità ha voluto dare la squadra a me per poter far sì che i ragazzi possono lavorare per salire speriamo in prima squadra c'è qualcosa di buono ci stiamo lavorando si vede vediamo certo l'ultima domanda che facciamo a luca conta visto che lui ha già in passato ha vinto il campionato regionale con la under 19 a volpiano cosa manca quest'ivrea per andare prima qualificarsi le fasi finali e poi eventualmente per vincere è quello che dico ai ragazzi lo prende dalla distinta di oggi noi giochiamo con 7 8 2004 sempre la licesa ha giocato con tutti 2002 2003 un 2004 in campo ci manca quella cattiveria dell'esperienza dell'anno in più se ce la mettiamo e facciamo come oggi che stiamo fino alla fine possiamo giocarci certo e c'è anche il tocco di luca conta poi che da la fina mi piace lavorare con i ragazzi è una bella cosa sono un ottimo motivatore per loro secondo me è una cosa che so loro lo fanno volentieri è chiaro che anch'io devo mettere la mia parte no ognuno mette il suo e i ragazzi mettono loro io metto quello che a loro disposizione e speriamo di fare bene grazie mille mister buon proseguimento